Ciao, sono Lucio Pastore, sono il team leader di Chimera. Chimera è una startup innovativa per lo sviluppo di terapie per malattie metaboliche e tumori. Nasce dai risultati del nostro gruppo di ricerca che dopo tanti anni stanno trovando un'applicazione di tipo traslazionale. Ciao, sono Leonora Leggero, co-founder di Chimera. Il primo prodotto di Chimera è Virocol, frutto di anni di ricerca nel campo della terapia genica. Virocol è un farmaco in grado di mantenere costantemente bassi i livelli di colesterolo cattivo nei pazienti affetti da ipercolesterolemia familiare. Ciao, sono Rella Tripodi, anch'io sono co-founder di Chimera. Attualmente sono già presenti dei farmaci su commercio per la cura di questa patologia. Virocol però presenta un vantaggio unico rispetto ai seocompetitor, perché in grado di curare questa patologia con una singola somministrazione che dura per tutta la vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.